E' mia vecchia abitudine a dare udienza ogni domenica mattina ai personaggi delle mie future novelle, 5 ore, dalle 8 alle 13, ma cadi quasi sempre di trovarmi in cattiva compagnia. Non so perché, di solito accorre a queste mie udienze la gente più scontenta del mondo o afflitta da strani mali, o incarbugliata in speciosissimi casi con la quale è veramente una pena trattare. Io ascolto tutti con sopportazione. Interrogo con buona grazia, prendo nota dei nomi e delle condizioni di ciascuno, tengo conto dei loro sentimenti e delle loro aspirazioni, ma bisogna anche aggiungere che per mia disgrazia non sono di facile contentatura. Sopportazione, buona grazia, sì, ma essere garbato non mi piace e voglio penetrare in fondo al loro animo con lunga e sottile indagine. Ora, avviene che certe mie domande, più d'uno, ad ombri o si impunti o recalcitri furiosamente perché forse mi sembra che io provi gusto a scomporlo dalla serietà con cui mi sei presentato. Con pazienza, con buona grazia, mi ingegno di far vedere e toccare con mano che la mia domanda non è superflua, perché si va presto a volerci in un modo o in un altro. Tutto sta poi, se possiamo essere quali ci vogliamo, ove quel potere manchi, per forza questa volontà deve apparire ridicola e vana. Non so, non se ne vogliono persuadere. Orbene, i personaggi delle mie novelle vanno spandendo per il mondo che io sono uno scrittore crudissimo e spietato. Ci vorrebbe un critico di buona volontà che facesse vedere quanto compatimento sia sotto a quel riso. Ma dove sono oggi i critici di buona volontà? Ebbene, avvertire che alcuni personaggi in queste udienze balzano davanti agli altri e si impongono con tanta petulanza e prepotenze che io mi vedo costretto qualche volta a sbrigarmi di loro lì per lì. Parecchi di questa loro furia poi si pentono amaramente e mi si raccomandano per avere accomodato chi un difetto o chi un altro. Ma io sorrido e dico loro pacatamente che scontino ora il peccato originale e aspettino che io abbia tempo e modo di ritornare ad essi, tra quelli che rimangono indietro, in attesa, sopraffatti, chi sospira, chi si oscura, chi si stanca e se ne va a picchiare alla porta di qualche altro scrittore. Mi è avvenuto non di rado di ritrovare nelle novelle di parecchi miei colleghi certi personaggi che prima si erano presentati a me, comeppure mi è venuto di ravvisarne certi altri i quali, non contenti del modo come io li avevo trattati, hanno voluto provare di fare altrove miglior figura. Non me ne nagno perché solitamente di nuovi me ne vengono davanti due o tre per settimana e spesso la ressa è tanta che io devo dar retta a più d'uno contemporaneamente, se non che a un certo punto lo spirito così diviso e frastornato si ricusa a quel doppio o triplo allevamento e grida esasperato che o uno alla volta, piano piano, riposatamente, o via, nel limbo tutte e tre. Ricordo sempre con quanta remissione aspettò il suo turno un povero vecchietto, arrivato a me da lontano, un certo maestro, Icilio Sapporini, spatriato in America nel 1849 alla caduta della Repubblica Romana. Per aver musicato non so che inno patriottico e ritornato in Italia, dopo 45 anni, quasi ottantenne, per morirvi. Cerimonioso, col suo vocino di zanzara, lasciava passare tutti innanzi a sé e finalmente un giorno che ero ancora convalescente di una lunga malattia, me lo vidi entrare in camera, umile e umile, con un timido risolino sulle labbra. Se posso, se non le dispiace. Oh sì, caro vecchietto, aveva scelto il momento più opportuno e lo feci morire subito subito in una novelletta intitolata Musica Vecchia. Quest'ultima domenica sono entrato nello scrittoio per l'udienza un po' più tardi del solito. Un lungo romanzo, inviatomi in dono e che aspettava da più di un mese ad essere letto, mi tenne sveglio fino alle tre del mattino, per le tante considerazioni che mi suggerì un personaggio di esso, l'unico vivo, tra molte ombre vane. Rappresentava un pover uomo, un certo dottor Fileno, che credeva ad aver trovato il più efficace rimedio a ogni sorta di mali. Una ricetta infallibile per consolare se stesso e tutti gli uomini di ogni pubblica o privata calamità. Veramente più che rimedio o ricetta era un metodo, questo del dottor Fileno, che consisteva nel leggere da mani a sera libri di storia e nel vedere nella storia anche il presente, cioè come già lontanissimo nel tempo e impostato negli archivi del passato. Con questo metodo si era liberato ad ogni pena e ad ogni fastidio e aveva trovato, senza bisogno di morire, la pace. Una pace austera e serena, soffusa di quella certa mestizia, senza rimpianto, che serverebbero ancora ai cimiteri sulla faccia della terra, anche quando tutti gli uomini fossero morti. Non si sognava neppure, il dottor Fileno, di trarre dal passato ammaestramenti per il presente. Sapeva che sarebbe stato tempo perduto e da sciocchi perché la storia è composizione ideale di elementi raccolti secondo la natura, le antipatie, le simpatie, le aspirazioni, le opinioni degli storici. E che non è dunque possibile far servire questa composizione ideale alla vita che si muove con tutti i suoi elementi ancora scomposti e sparpagliati. E nemmeno si sognava di trarre dal presente norme o previsioni per l'avvenire. Anzi, faceva proprio il contrario. Si poneva idealmente nell'avvenire per guardare il presente. E lo vedeva come passato. Gli era morta, per esempio, da pochi giorni una figliuola. Un amico era andato a trovarlo per condolersi con lui della sciagura. Ebbene, lo aveva trovato già così consolato come se quella figliuola gli fosse morta da più che cent'anni. La sua sciagura, ancora calda calda, l'aveva senz'altro allontanata nel tempo, respinta e composta nel passato. Ma bisognava vedere da quale altezza e con quanta dignità ne parlava. Insomma, di quel suo metodo il dottor Fileno sarà fatto come un cannocchiale rivoltato. Lo apriva, ma non per mettersi a guardare verso l'avvenire, dove sapeva che non avrebbe veduto niente, persuadeva l'anima essere contenta di mettersi a guardare dalla lente più grande, attraverso la piccola, appuntata al presente, per modo che tutte le cose, subito, le apparissero piccole e lontane. E attendeva da vari anni a comporre un libro, che avrebbe fatto epoca certamente, la filosofia del lontano. Durante la lettura del romanzo mi era apparso manifesto che l'autore, tutto inteso ad annodare artificiosamente una delle trame più sciolte, non aveva saputo assumere intera coscienza di questo personaggio, il quale, contenendo in sé esso solo il germe di una vera e propria creazione, era riuscito in un certo punto a prendere la mano all'autore e a stagliarsi per lungo tratto, con vigoroso rilievo, sui comunissimi casi narrati e rappresentati. Poi, all'improvviso, sformato e immiserito, si era lasciato piegare e adattare alle esigenze di una falsa e sciocca soluzione. Ero rimasto a lungo, nel silenzio della notte, con l'immagine di questo personaggio davanti agli occhi a fantasticare. Peccato. C'era tanta materia in esso da trarne fuori un capolavoro. Se l'autore non lo avesse così indegnamente misconosciuto e trascurato, se avesse fatto di lui il centro della narrazione, anche tutti quegli elementi artificiosi di cui si era valso, si sarebbero forse trasformati, sarebbero diventati subito vivi, anch'essi. E' una gran pena, è un gran dispetto se erano impadroniti di me per quella vita miseramente mancata. Ebbene, quella mattina, entrando tardi nello scrittoio, ritrovai un insolito scompiglio, perché quel dottor Fileno si era già cacciato in mezzo ai miei personaggi aspettanti, i quali, adirati e indispettiti, gli erano saltati addosso e cercavano di cacciarlo via, di strapparlo indietro. Ehi, gridai, signori miei, che modo ecotesto? Dottor Fileno, io ho già sprecato con lei troppo tempo, chi vuole da me? Lei non mi appartiene, mi lascia attendere in pace adesso ai miei personaggi e se ne vada. Una così intensa e disperata angoscia? Si dipinse sul volto del dottor Fileno che subito tutti quegli altri, i miei personaggi che ancora stavano a trattenerlo, impallidirono, mortificati, e si ritrassero. Non mi scacci, per carità, non mi scacci. Mi accordi cinque sole minuti di udienza, con sopportazione di questi signori, e si lasci persuadere, per carità. Perplesso e pur compreso di pietà, gli domandai, ma persuadere di che? Sono persuasissimo che lei, caro dottore, meritava di capitare in migliori mani, ma che cosa vuole che io le faccia? Mi sono doleto già molto della sua sorte. Ora basta. Basta? Ah no, per Dio, scattò il dottor Fileno con un fremito di indignazione per tutta la persona. Lei dice così perché non son cosa sua. La sua non curanza, il suo disprezzo. Mi sarebbero, creda, assai meno crudeli che questa passiva commiserazione indegna di un artista. Mi scusi. Nessuno può sapere meglio di lei che noi siamo esseri vivi, più vivi di quelli che respirano e vestono i panni, forse meno reali, ma più veri. Si nasce la vita in tanti modi, caro signore. Lei sa bene che la natura si serve dello strumento della fantasia umana per proseguire la sua opera di creazione. E che nasce, merce, questa attività creatrice che ha sede nello spirito dell'uomo, è ordinato da natura a una vita di gran lunga superiore a quella di chi nasce dal grembo mortale d'una donna. Chi nasce personaggio, chi ha l'avventura di nascere personaggio vivo, può infischiarsi anche della morte. Non muore più. Morrà l'uomo, lo scrittore, strumento naturale della creazione. La creatura non muore più. E per vivere eterna non ha mica bisogno di straordinarie doti o di compiere prodigi. Mi dica lei, chi era Sancio Panza? Mi dica lei chi era Don Abbondio? Eppure vivono eterni. Perché vivi germi ebbero l'avventura di trovare una matrice feconda, una fantasia che li seppe allevare e nutrire per l'eternità. Sì, caro dottore, tutto questo sta bene, gli dissi, ma non vedo ancora che cosa ella possa volere da me. Ah no? Non vede? Fece il dottor Fileno. Ho forse sbagliato strada. Sono caduto per caso nel mondo della luna. Ma che razza di scrittore è lei? Scusi! Ma dunque, sul serio, lei non comprende l'orrore della tragedia mia? Avere il privilegio inestimabile di essere nato personaggio. Oggi come oggi? Voglio dire oggi che la vita materiale è così irta di vili difficoltà che ostacolano, deformano, immiseriscono ogni esistenza. Avere il privilegio di essere nato personaggio vivo, ordinato dunque, anche nella mia piccolezza, all'immortalità. E sì, signore, essere caduto in quelle mani, essere condannato a perire, iniquamente, a soffocare in quel mondo d'artifizio, dove non posso né respirare né dare un passo, perché è tutto finito, falso, combinato, arzigogolato. Parole e carta. Carta e parole. Un uomo, se si trova avviluppato in condizioni di vita a cui non possa o non sappia adattarsi, può scapparsene, sfuggire. Ma un povero personaggio no. È lì, fissato, inchiodato a un martirio senza fine. Aria, 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 vita! Ma guardi, Fileno. Mi ha messo nome, Fileno. Le pare sul serio che io mi possa chiamar Fileno? Imbecille, 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 neppure il nome ha saputo darmi. Io, Fileno. E poi, già, io, io, l'autore della filosofia del lontano, proprio io, dovevo andare a finire in quel modo indegno per sciogliere tutto quello stupido garbuglio di Casillà. Dovevo sposarla io, è vero? In seconde nozze, quell'oca di Graziella, invece del notaio Negroni. Ma mi faccia il piacere. Questi sono delitti, caro signore, delitti che si dovrebbero scontare a lacrime di sangue. Ora, invece, che avverrà? Niente. Silenzio. O forse qualche stroncatura in due o tre giornaletti. Forse qualche critico esclamerà. Quel povero dottor Fileno. Peccato. Quello sì, era un buon personaggio. E tutto finirà così. Condannato a morte io. L'autore della filosofia del lontano. Che quell'imbecille non ha trovato modo neanche di farmi stampare a mie spese. Eh già. Se no, sfido. Come avrei potuto sposare in seconde nozze quell'oca di Graziella? Ah, non mi faccia pensare. Su, su. All'opera. All'opera, caro signore. Mi riscatti lei. Subito. Subito. Mi faccia vivere lei. Che ha compreso bene tutta la vita che hai in me. A questa proposta, avventata furiosamente come conclusione del lunghissimo sfogo, restai un pezzo a mirare in faccia il dottor Fileno. Si fa scrupolo? Mi domandò, scombuiandosi. Si fa scrupolo? Ma è legittimo. Legittimo, sa? È suo diritto, sacrosanto. Riprendermi e darmi la vita che quell'imbecille non ha saputo darmi. È suo. È mio diritto. Capisce? Sarà a suo diritto, caro dottore, risposi. E sarà anche legittimo, come lei crede. Ma queste cose io non le faccio. È inutile che insista, non le faccio. Provi a rivolgersi altrove. E chi vuole che mi rivolga se lei... Ma io non so. Provi. Forse non stentere molto a trovare qualcuno perfettamente convinto della lecittimità di contesto diritto. Se non che mi ascolti un po', caro dottor Fileno. Lei è, sì o no, veramente l'autore della filosofia del lontano? E come no? Scattò il dottor Fileno, tirandosi un passo indietro e recandosi le mani al petto. Oserebbe metterlo in dubbio? Capisco, capisco. È sempre per colpa di quel mio assassino. Ha dato appena appena e in sucinto di passata un'idea alle mie teorie, non supponendo neppure lontanamente tutto il partito che c'era da trarre da quella mia scoperta del canocchiale rivoltato. Parai le mani per arrestarlo, sorridendo e dicendo «Va bene, va bene, ma... e lei, scusi?» «Io? Come io?» Si lamenta del suo autore, ma... Ha saputo lei, caro dottore, è partito veramente dalla sua teoria? Ecco, volevo dirle proprio questo. Mi lasci dire. Se ella crede sul serio, come me, alla virtù della sua filosofia, perché non la applica un po' al caso suo? E la va cercando oggi, tra noi, uno scrittore che la consacri all'immortalità. Ma guardi a ciò che dicono di noi poveri scrittorelli contemporanei, tutti i critici più ragguardevoli. Siamo o non siamo, caro dottore? E sottoponga, insieme a noi, al suo famoso canocchiale rivoltato i fatti più notevoli, le questioni più ardenti e le più mirabili opere dei nostri giorni. Caro il mio dottore, ho gran paura che la non vedrà più niente, né nessuno. E dunque via si consoli, o piuttosto si rassegni, e mi lasci attendere ai miei poveri personaggi, i quali saranno cattivi, saranno scontrosi, ma non hanno almeno la sua stravagante ambizione.